Com'è stato il matrimonio di Giuseppe Zeno e Margaret Maid? Nel nostro articolo tutti i dettagli e le foto. Giuseppe Zeno e Margaret Maid sono sposati dal 20 agosto del 2016, i due attori stanno vivendo una storia da favola dopo essersi cercati a lungo Le foto delle loro nozze fanno davvero sognare. Leggi anche, Giuseppe Zeno Sock, hanno cercato di vendere un video delle mie figlie, ecco i fatti in matrimonio di Giuseppe Zeno e Margaret Maid Giuseppe Zeno e Margaret Maid si sono sposati a Ortigia, Siracusa, nella chiesa di San Giovanni Battista detto San Giovannello Ecco le parole dell'attrice Dopo aver visto la chiesa, Giuseppe e Margaret volevano una cerimonia quasi privata, includendo solo la famiglia e gli amici più stretti Al loro matrimonio pochi volti dallo spettacolo e dopo il rito religioso spazio ai festeggiamenti nell'orto botanico di un castello La Maid ha risposto così alle critiche di chi sottolinea che lei e Zeno fossero insieme da poco più di un anno, sempre Margaret Maid Poi, ha aggiunto qualche dettaglio sul rito religioso e sulla scelta di sposarsi tramite questo, ma Giuseppe Zeno e Margaret Maid sono gelosi l'uno dell'altra? L'attrice risponde Di seguito le foto del loro bellissimo matrimonio, Zeno e la moglie nel giorno del loro matrimonio foto, veniti fer foto, oggi sposi Hit foto, veniti fer che meraviglia Giuseppe Zeno e la moglie durante le loro nozze foto, panorama sposi Hit foto, ultime notizie flash.com Seguici su Instagram cliccando qui Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao